buongiorno siamo a domenica il quarto giorno della 125esima fiera cavalli vorremmo essere sempre qui per raccontarvi cose belle oggi ve ne racconteremo una che proprio piacevole non è è con noi l'avvocato filippo loretto che ieri ha avuto una disavventura appena prima della gara di monta iberica la quale avrebbe partecipato avvocato ci racconti cosa è successo buongiorno ieri alle ore 17 circa dovevo entrare per la finale di campionato di doma vaquera il padiglione 9 mentre ero nella pista di riscaldamento e il binomio precedente a me era già in pista per la propria gara sono stato fermato da una signora che portava la divisa dell'empa la quale mi ha contestato che il cavallo presentava dei segni sui fianchi e mi ha intimato anzi mi ha comandato direi di scendere da cavallo e che se dicendomi che se sarei se fossi risalito a cavallo scusate e se fossi salito per il concorso mi avrebbe denunciato non una sola volta ma due a quel punto io ho chiamato uno dei quattro giudici che abbiamo che era il giudice la porta il quale con un fazzoletto bianco ha passato il costato del cavallo ha visto che non portava segni di sangue in base al nostro regolamento mi ha cercato di avere un confronto con questa signora la signora ha detto che lei è un pubblico ufficiale che il confronto con lei non è possibile porlo in essere e io mi sono allontanato a piedi ho lasciato il cavallo in custodia al giudice di gara ho fatto una riflessione con me stesso e ho detto Filippo beh risali cerca di fare la tua gara il meglio che puoi e poi quando esci risolverai questa cosa così è stato sono salito a cavallo sono entrato in pista quando mi hanno chiamato ho fatto una gara che non mi ricordo nemmeno cosa ho potuto fare non mi ricordavo niente ho fatto qualcosa quello che in quel momento mi usciva distinto e poi una volta che sono che ho terminato la gara mi sono andato con il mio con la massa che il mio cavallo al boxe lì ho trovato la signora dell'empa con altri tre volontari dell'empa i quali hanno cominciato a fotografare il cavallo ma hanno cominciato a minacciarmi denunce penali per per maltrattamenti io ho spiegato che erano segni vecchi che il cavallo aveva tanto è vero che io ce l'ho da un anno il cavallo quando l'ho acquistato aveva già questa cicatrice un cavallo che ha 11 anni io l'ho visto in spagna mi è piaciuto possiamo dire che non solo mi è piaciuto me ne sono innamorato e l'ho portato a casa e io ogni settimana faccio mille chilometri alla settimana per andare a montare il cavallo perché io abito a vicenza il cavallo sta a bergamo scendo sia il sabato poi torno a casa il sabato sera scendo la domenica quindi faccio mille chilometri per montare un anno che cercavo di prepararmi a questa gara e quando poi il cavallo è stato posto in boxe o confrontandomi con con il mio istruttore con altre persone abbiamo deciso di chiamare il veterinario della fiera per poter avere un un risponso tecnico perché io faccio l'avvocato e non non so se quello che la signora mi contestava fosse corretto o meno e la signora mi disse che io potevo chiamare benissimo il veterinario ma che lei non avrebbe avuto nessun confronto con il veterinario della fiera quindi si è posta anche in un in un gradino superiore a quello che il gradino superiore al veterinario ufficiale della fiera se io guardi col veterinario della fiera non voglio parlare io ho consegnato i miei documenti di identità è arrivato in quel momento la polizia i carabinieri chiamati da lei con con il tempo necessario poi è arrivato il veterinario della fiera il quale ha visitato il cavallo addirittura con la luce del telefonino messa sui fianchi ha dichiarato davanti a me e davanti a agli altri delegati della fiera presenti che erano segni che risalenti nel tempo sui fianchi del cavallo e mi ha detto guardi che per noi è a posto questa signora dell'empa che io ho detto guardi che c'è la dottoressa stroppa che è il veterinario della fiera se lei vuole che ci confrontiamo lei disse io non ho nessun obbligo di confrontarmi col veterinario della fiera sono un pubblico ufficiale io le contesto una sanzione mi ha fatto un verbale che io ho sottoscritto e ho ricevuto ho fatto delle contro deduzioni che è quello che ho spiegato poc'anzi e poi ho cercato di sistemare il cavallo e ho cercato un po' di rimettere insieme i cocci di un sabato che è finito nel modo peggiore del mondo perché avere una contestazione su una violenza di un animale mi ha colpito nel profondo perché è da quando avevo 12 anni che frequento il mondo del cavallo e sono nato con i cavalli e c'è stata una presa di posizione forte del padiglione 9 perché queste cose che quello che è successo a me ieri sta succedendo da diversi anni a chi frequenta il padiglione 9 ci sono delle persone che dei professionisti che nel padiglione 9 lavorano si preparano un anno per arrivare in fiera per portare avanti la loro professionalità la loro azienda la loro imprenditoria e io ieri l'ho detto c'è una storia che sta girando sui social io l'ho detto se fosse toccato a me professionalmente una cosa così sarebbe la fine della mia professione per fortuna io per fortuna io invece sono un mero appassionato e quindi la posso vivere con un ramarico personale ma non professionale e imprenditoriale penso che la fiera le istituzioni i varie le varie istituzioni le varie entità che che collaborano per creare questo progetto di fiera cavalli ormai da così tanto tempo devono prendere una posizione netta e seria sulla questione anche perché è una posizione da valutare anche all'interno degli enti animalisti lei mi diceva che non era stata l'unica associazione animalista che aveva visto il cavallo ieri c'erano state altre persone che l'hanno visitato hanno fatto dichiarazioni ben precise è stata poi ovviamente è arrivato il comitato etico della fiera e il quale ha visitato il cavallo anche loro anche se non sono veterinari a mi hanno chiesto il permesso e hanno riscontrato che il cavallo portava dei segni risalenti nel tempo e che io non c'entravo niente quindi questo anche da parte del comitato etico della fiera che è l'organo appositamente preposto anche in seno alle associazioni animaliste per controllare il benessere degli equini dei cavalli in fiera sì questo è quello che è successo e ovviamente la questione sta andando avanti da tanti anni e secondo me deve essere presa una direzione ben precisa non si può essere sempre in balia un minuto prima della gara di un qualcuno che entra in campo a prova e ti contesta qualcosa penso che la fiera debba creare un organo proprio che possa accertare magari può essere un veterinario incaricato dalla fiera accompagnato da un tecnico federale da un qualcuno che capisca di cavalli un veterinario di equidi con un tecnico federale che possa capire cos'è un filetto cos'è un'imboccatura cos'è una flessione e allora se tu ti puoi confrontare con dei tecnici specializzati nel fatto allora puoi avere un dialogo altrimenti è come se parlare con un muro di gomma il cosiddetto muro di gomma non aggiungiamo nulla se non che la competenza la formazione e il sapere di che cosa si sta parlando sono importanti per tutti a ognuno a livello professionale e non soltanto la ringraziamo avvocato a presto speriamo che sia una giornata migliore di ieri ringrazio voi buon lavoro e buon ultimo giorno di fiera grazie 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 grazie